I parcheggi a pagamento sono solo rinviati, entro l'estate ormai non si riuscirà a ripristinare le strisce blu in centro storico, ma la strada per il futuro è quella, come più volte detto dall'assessore alla mobilità Paola Giuliani. Gli ostacoli sostanzialmente sarebbero due, il piano di fattibilità predisposto dall'AMA per il ritorno delle strisce, che sarebbe però addirittura d'arrivo dopo qualche difficoltà a reperire ad esempio dei preventivi e la difficoltà ulteriore di far coesistere la sosta a pagamento con i lavori in piazza Duomo. L'AMA sta redigendo un progetto e ha avuto qualche difficoltà nel reperire preventivi per le macchinette che danno i biglietti praticamente, quindi il tempo tecnico di riuscire ad avere un piano economico finanziario congruo e speriamo di partire. L'assessore Giuliani spiega che loro stanno tentando di proporre soluzioni perché di realizzare nuovi parcheggi non se ne parla, a parte Portaleoni che ormai è quasi pronto. Non c'è corrispondenza però da parte delle persone perché il mega parcheggio è anche oggetto di lavori di restyring, questo dovrebbe renderlo più appetibile. Come inizieranno a breve i lavori per il ripristino del Taperulandi con legamento tra il Terminal e Piazza Duomo. Già il semplice rifacimento dei bagni per esempio, già quello è un passo avanti perché ad esempio abbiamo previsto anche delle zone dove le mamme possono cambiare i bambini, dei fasciatoi come negli autogrill di modo che anche le mamme che andranno a spasso con i propri bambini al Parco del Sole avranno un posto comodo e accogliente per poter sostare. Il sistema di illuminazione sarà potenziato di modo che si renderà anche più luminoso. Quindi insomma questi accorgimenti che richiedono adesso del tempo e quindi forse creano qualche disagio però dovrebbero indurre i cittadini a utilizzare di più questo parcheggio che di fatto è comodo. Tenete presente che la navetta proprio su richiesta anche dei commercianti è stata estesa dalle 7.30 alla mattina fino alle 21 la sera, assolutamente gratuita. Gli sforzi l'amministrazione li sta facendo però non c'è corrispondenza da parte degli utenti e quindi da soli non ce la possiamo fare perché oltre questo diventa difficile. Realizzare dei parcheggi all'interno dei nostri vicoli è impensabile, non possiamo ottenere questo risultato.